Siamo l'orchestra senza spine e abbiamo un sogno, togliere le spine dalla musica classica. Quelle spine che non le permettono di essere abbracciata da tutti. Despinazione totale. Come? Lezioni di strumento individuali, gruppi di studio e un'orchestra junior. La prima spina che abbiamo tolto è la noia. La musica classica non è noiosa, è una festa. La seconda spina che abbiamo tolto è l'età. La musica classica non è vecchia e non invecchia mai. La terza spina è l'inaccessibilità ed è qui che entri in gioco tu. Alla scuola senza spine sono previste 20 borse di studio per 20 futuri musicisti. Con la tua donazione sarai protagonista di una rivoluzione concreta. Con 20 euro donerai 4 giornate in orchestra ad un bambino. Con 30 euro garantirai una lezione individuale. Con 50 euro coprirai il costo di noleggio del suo strumento e con 100 euro offrirai un mese di studio individuale. Perché la classica non punge. Fidati!